Buonasera a tutti, ciao Ariano! Ti chiami Assisi, perché? Sono napoletano, lo sai perché? Rispondo sempre quando mi dicono Assisi, come San Francesco? Sto parlando con l'animale Siamo qui con Sergio Assisi Sì, Sergio, sei venuto qui ad Ariano a presentare A Napoli non piove mai Questa è la tua opera prima, no? Quindi dove sei regista, attore, sceneggiatore Com'è stata l'esperienza sul serio? È stata un'esperienza devastante Perché fare tutto è improponibile Eravamo in pochi a credere a un piccolo sogno Questo sogno è diventato in parte realtà E spero che questo sogno sia soltanto l'inizio Di una possibile strada verso altri sogni Semplicemente fare il mio lavoro E cercarlo di fare nel meglio del mondo Grazie Un'ultimissima domanda Ariano, l'accoglienza come è stata? Eh, devo dire, è ipercalorosa Assolutamente Soprattutto per la mattonera del bagno Soprattutto per la mattonera del bagno Scherzo? No, io ripeto Adoro i piccoli centri Sempre Perché in genere vengono sempre mistrattati Io siccome mi reputo una piccola persona E da piccolo ero sempre mistrattato E allora è come dire Come una piccola rivincita Cercare di ripartire dal piccolo Grazie mille Speriamo di riaverti qui presto Ciao Grazie, ciao